Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui in questa serata in cui parleremo tanto per cambiare come si suol dire di Israele che oggi inevitabilmente è al centro dell'interesse non solo italiano ma non solo neanche europeo ma internazionale e vedo che siamo già in molti ma sta continuando a entrare gente e iniziamo per permettere anche un po' uno sviluppo ampio del dialogo di questa serata. Allora chi ci segue lo sa, noi dell'associazione Lech Lecha collaboriamo almeno credo una o due volte l'anno con l'associazione Italia Israele di Milano con cui organizziamo sempre Italia Israele ha un ruolo persino più importante del nostro in cui organizziamo una riflessione comune appunto su Israele. Spesso lo facciamo come questa sera partendo da un numero di Limes dedicato proprio allo stato ebraico, alla situazione di Israele adesso e coinvolgiamo nelle nostre iniziative sempre il direttore di Limes che è tantissimo intellettuale in Italia che è Lucio Caracciolo ovviamente e lo ringraziamo anche oggi di essere qui. Dialogheranno con Lucio Caracciolo come avete visto nella Rocandina Sergio della Pergola, non credo che abbia bisogno di presentazioni in questo contesto Sergio della Pergola, ovviamente massima autorità nell'ambito della demografia ebraica a livello mondiale, penso di poter dire Sergio, curriculum infinito, già premiato col col premio Israele che possiamo anche considerare una sorta di premio Nobel israeliano e merito alla Hebrew University ma soprattutto nella veste qui di analista politico, lo ricordo sempre, Sergio della Pergola è uno di quei demografi che lega le analisi demografiche all'analisi della situazione politica. Però scusa, premi Israele ancora no, vari altri premi, ma premi Israele no. Va bene, allora te l'ho attribuito ad onore Sergio, arriverà anche quello, lo prendiamo come un auspicio. Il terzo interlocutore di oggi che siamo davvero molto contenti di avere qui, in particolare anche noi dell'Associazione delle FK, perché Michael mi piace ricordare che per noi ti sei alternato con Rav Punturello nel fare tutto un anno il commentario biblico, quindi il commento alla parasha settimanale. Sono podcast, lo dico che sono ancora disponibili, accessibili a tutti, chi vuole informazioni in merito ci scrive, poi metteremo nella chat i vari indirizzi di riferimento. Anche per vedere, già ci è stato chiesto prima della conversazione di questa sera, per rivedere la nostra discussione registrata. Sarà presente sui canali, quindi pagine Facebook, canali YouTube di Italia Israele di Milano e anche sui canali nostri dell'Associazione Lech Lechà. Allora, Michael Ascoli, dicevo come ti presento, è rabbino, nel senso ha una formazione rabbinica, di cui appunto il grande lavoro di commento biblico che ha fatto per noi, però lavora a Haifa, dove vive da diversi anni, e lavora in ambito ingegneristico, che è un settore non trascurabile ovviamente in Israele e soprattutto non trascurabile a Haifa. Vedremo che lui si concentrerà su alcuni aspetti del problema educativo in Israele, che è un tema affrontato anche da Limes in questo suo numero. Allora, gli argomenti ovviamente non mancheranno, a cominciare dalla situazione interna in Israele, che come sapete è scandita in queste settimane, credo che la prossima sia la ventesima settimana di protesta, in cui ci sono queste manifestazioni oceaniche, dove credo si confrontano sempre più due schieramenti, non solo sulla tanto discussa legge sulla giustizia che ha dato avvio al riempimento, potremmo dire, delle piazze nelle varie città israeliane, ma sembra sempre di più che si confrontino due idee dello Stato ebraico. Mi verrebbe anche, scusate la mia formazione filosofica, di ampliare ulteriormente il quadro dicendo, ma vedremo se questa tesi avrà una sua coerenza, una sua conferma alle discussioni di oggi, si confrontano anche, credo, due visioni dell'ebraismo. Un po' sembra che siano venuti al pettine alcuni elementi culturali irrisolti del rapporto fra ebraismo e modernità, che fino adesso si era cercato di gestire accettando un po' tutte le posizioni, quelle più conservative, quelle più progressiste, secondo la formula che in Israele è un po' una formula politica dello status quo. Oggi sembra un po' traballare questo compromesso che è confluito anche nella, insomma, nella carta di indipendenza del 1948. Allora, quindi abbiamo da riflettere sulla situazione interna in Israele, Sergio Della Pergola già ci diceva che ci offrirà le ultime notizie in merito, dopodiché però dobbiamo anche discutere, credo, un tema certo non secondario, come questa situazione sta in qualche modo mettendo in discussione il posizionamento internazionale di Israele, a cominciare dai famosi accordi di Abramo che sono iniziati nel 2020 e che hanno permesso la ripresa di relazioni diplomatiche fra una parte del mondo arabo e Israele. Quindi sono accordi, direi, di portata storica, promossi, vi ricordate, dall'amministrazione Trump e poi hanno avuto un ulteriore sviluppo. Perché si pensa che questa situazione possa mettere in crisi quegli accordi di Abramo, ma perché ovviamente la compagine di governo conserva in sé una componente religiosa che possiamo, credo, dire, magari alcuni contesteranno questa mia espressione, ha degli elementi esplicitamente anti-arabi e questo ovviamente mette in difficoltà i paesi che hanno firmato gli accordi con Israele e anche l'Arabia Saudita, che per molti sembrava il destinatario finale di questi accordi, e che aveva fatto ultimamente, negli ultimi mesi anche perlomeno dall'estate scorsa, delle aperture esplicite allo Stato ebraico. Tutto questo sembrerebbe messo in discussione, ovviamente non fa piacere agli Stati Uniti d'America, Biden ancora non ha incontrato Netanyahu, credo che sia rimasta solo una telefonata fra i due fatta a fine marzo, ovviamente per chi conosce le relazioni tra gli Stati Uniti e Israele e questo è un inedito assoluto, perché? Perché gli americani contavano molto, a quanto pare, su questi accordi di Abramo per offrire un minimo di stabilità a questa zona di mondo che i lettori e le lettrici di Limes conoscono con il nome di Chaoslandia, cioè questo Medio Oriente in cui negli ultimi vent'anni sono trollati interi Stati, destabilizzando in maniera definitiva l'area. Gli accordi di Abramo potevano offrire un elemento di stabilità, sappiamo che, l'abbiamo visto a Kabul, gli americani vogliono disimpegnarsi per quanto possibile dal Mento Oriente per concentrare i propri sforzi nell'Indo-Pacifico. In ultimo, e veramente chiudo, penso si dovrà un po' riflettere anche su come questa situazione interna in Israele, vedo che Sergio Della Pergola aveva dato delle interviste in merito già nelle settimane scorse ad alcune testate ebraiche, per esempio riflessi in Menorah, come questa situazione interna sta rendendo, diciamo così, debole Israele agli occhi dei suoi nemici esterni. Allora sappiamo benissimo che lo Stato ebraico è forse lo Stato che al mondo più subisce pressione dagli Stati che ha attorno, dobbiamo registrare una, direi, inedita, un inedito attivismo dell'Iran che per la prima volta sembra attaccare Israele, così ci dicono gli analisti, Caraccio ci confermerà o meno in questo senso, da tre fronti, quindi dalla striscia di Gaza, abbiamo visto in queste ultime settimane, naturalmente sono certificati i legami fra il regime degli Ayatollah e Hamas, dal Libano con Hezbollah, era un po' che non arrivavano missili dal Libano, eppure da basi missilistiche, diciamo, di emanazione iraniana presente nel territorio siriano. Non sfugge a nessuno, per complicare ulteriormente il quadro, che tutto questo si inserisce nella nuova cornice geopolitica della post-conflitto Ucraina-Russia, anche qui, fino adesso Israele aveva tenuto il piede un po' in due scarpe, facendo necessità virtù, perché naturalmente è alleato storico degli Stati Uniti, però a prescindere dai governi, sempre mantenuto ottimi rapporti con la Russia di Putin, che consente anche, diciamo, dei raid aerei in territorio siriano. Insomma, tantissimi temi che abbiamo, io vorrei ringraziare, purtroppo, scusate, non riesco a nominarle, anche perché non vedo bene i loghi, che sono molto piccoli, tutte le associazioni che hanno patrocinato questo incontro. Abbiamo deciso di iniziare con due brevi saluti inaugurali del presidente d'Italia Israele di Milano, Monsignor Fumagalli, e Milo Hasbani, in rappresentanza dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Io non vedo Hasbani, non so se è già in linea, perché farei iniziare lui e poi Monsignor Fumagalli. Se c'è Hasbani, se no facciamo iniziare direttamente Fumagalli. Allora, Monsignor Fumagalli, prego, se attivi il microfono dovrebbe riuscire a farlo lei autonomamente. Ecco, allora, molte grazie Davide Asael. L'Associazione Italia Israele è ovviamente onorata degli illustri oratori di questa sera, che ringraziamo Mimmi Navarro e Dio, e che possiamo dire, ci auguriamo che tutti coloro che sono qui collegati, che sono, vedo, davvero molto numerosi, e possiamo insieme fare, come si dice, una specie in questo 75esimo anno della Medinat Israel, che possa essere questa serata una serata di, come dire, un pilpul per la pace. Ecco, sia questo il mio augurio. Grazie molto e buona serata a tutti. Allora, grazie a lei, Monsignore. Intanto, grazie a Mimmi Navarro, che non ho ringraziato personalmente, ma semplicemente perché, lo possiamo dire, Mimmi ha un legame di parentela con te, quindi una confidenza così quotidiana, che mi è anche sembrato superfluo ringraziarti, ma invece non lo è, perché lei è sempre la straordinaria animatrice di queste iniziative. E lei mi ha mandato, e ci tengo a nominarli, e gli enti che hanno patrocinato la serata, oltre ovviamente all'IMES, che ringraziamo sempre di partecipare, di diffondere anche queste nostre iniziative attraverso i suoi canali, Italia e Israele di Siena, Italia e Israele di Perugia, Italia e Israele di Napoli, il gruppo di studi ebraici, e l'associazione Amici dell'Università di Gerusalemme. Così abbiamo ringraziato tutti, siamo a quasi 200 persone, io però non so se c'è Milo Casbani, che se c'è gli chiederei di prendere la parola, se no direi di iniziare il nostro giro, e se lui intervera... No, non mi sembra. No, guarda che Milo c'è, ha alzato la mano. Ah, scusate, non l'ho visto perché non ho... Prego allora, Milo. Forse hai disattivato il suo microfono. Edoardo, allora, se gli chiedo, perché non gestisco io i microfoni, se può attivare il microfono di Milo Casbani. Eh, ci ho provato ma non lo apre. Non si riesce, c'è qualche problema tecnico? Non lo so. È intanto per primo ma... No, secondo me non c'è o non riesce a parlare. Allora, c'è un problema tecnico con Milo Casbani, come vedete, allora io farei così. Procederei con la nostra discussione e vediamo se al termine del primo intervento di Lucio Caracciolo Milo Casbani riesce, cioè riusciamo a sbloccare questa situazione e così poi ci fa un saluto, come si dice, in corso d'opera. Dico a tutti come procederà la serata. Allora, Lucio Caracciolo ci farà un breve intervento, cinque, dieci minuti massimo, di presentazione un po' di questo numero di Limes che come sempre è ricchissimo e non si esaurisce nell'oggi, nel senso che i numeri di Limes vanno presi e conservati lì. Io ho dei numeri che di dieci anni fa che letti oggi sembrano descrivere la situazione come fosse il telegiornale della sera prima. Per cui, questo numero è ricchissimo, chiediamo a Lucio Caracciolo che fa una breve presentazione, poi parola a Sergio Della Pergola e a Rava Mikaela Ascoli per, insomma, una riflessione da dentro ai confini israeliani. Prego, Lucio. Sì, buonasera, un caro saluto a tutti. Grazie di questa opportunità, più che di parlare, di ascoltare da voi che da dentro o da fuori Israele conoscete quel paese molto meglio di me. Due notazioni di partenza, dando per scontato che alcuni di voi forse hanno letto anche qualche articolo o almeno di questo numero, si parte dal contesto internazionale, cioè si capisce poco della profondità di questa crisi se non a partire dal graduale ma evidente disimpegno degli Stati Uniti dalla regione mediorientale. Questo per Israele, che conta ovviamente per la propria sicurezza innanzitutto sull'ombrello americano, sul sostegno, sull'appoggio degli Stati Uniti d'America, è un segnale particolarmente pericoloso, allarmante e che deve far ragionare un po' tutti quanti. Che cosa vuol dire quando il capo, chiamiamolo così, di una parte così critica del mondo decide di occuparsi un po' più dei fatti suoi e ne ha motivo e un po' meno dei fatti altrui? Succede che, come sempre, il vuoto viene riempito da altri, si apre una contesa fra altri attori, alcuni molto stagionati, altri nuovi, che vedono in questo disimpegno americano una grande opportunità per conquistare spazio, influenza, risorse. Capitano così anche le cose più mirabolanti, tipo l'intesa, per quanto evidentemente limitata e provvisoria, fra Arabia Saudita e Iran, che parte dalla guerra nello Yemen, ma che va probabilmente a toccare non solamente questo aspetto, al tendenziale distacco delle petromonarchie del Golfo dagli Stati Uniti, che anzi fanno sempre più capolino nel campo degli avversari dell'America, pensiamo ai rapporti molto più stretti di prima anche tra la Russia e gli Emirati Arabi Uniti, pensiamo solo al ruolo che Dubai ha nelle triangolazioni che consentono alla Russia di assorbire l'impatto delle sanzioni. Israele vive in questo contesto una crisi che a me pare particolarmente profonda, ma anche rivelatrice. Siamo in mezzo a questa crisi, quindi è molto difficile avere la distanza sufficiente per poterne trattare con un grado di saggezza. Noi ci abbiamo provato e sicuramente avremo degli aggiornamenti da voi, avremo delle critiche, delle proposte. Ci abbiamo provato, almeno ci ho provato, cercando di dare un minimo di profondità storica alla crisi attuale che interpreterei innanzitutto come una crisi di identità e di legittimità dello stesso potere. Quando tu hai la grande potenza protettrice che appunto, come dicevo, quando si allontana, emergono più in evidenza le faglie che dividono all'interno la società israeliana, lo Stato di Israele, non da oggi, ma che oggi appaiono forse in maniera più, non forse, senza forse, in maniera più evidente e più grave di quanto si pensasse. Un aspetto che abbiamo approfondito molto anche nei precedenti volumi di IMES su Israele e che riguarda proprio le identità presenti nello spazio israeliano, spazio che sappiamo non essere ben delimitato e questo già è un limite alla definizione di Israele. Bene, queste cosiddette tribù in realtà più che essere delle tribù nel senso canonico del termine, sono dei diversi modi di intendere e di leggere l'Israele di oggi e la sua storia e il suo rapporto con l'ebraismo. Il famoso discorso di Rivlin nel 2015 sulle tribù di Israele oggi va riletto, a mio avviso, proprio nella chiave di come si possa in un contesto di crisi identitaria impartire nozioni di base e somministrare pedagogie nazionali israeliane così diverse come quelle che si possono delibare e abbiamo fatto anche un elenco proprio di curricula nelle diverse strutture scolastiche, nei quattro, mettendoci anche i drusi, quattro e mezzo, modi di spiegare Israele e il mondo, Israele nel mondo, Israele la storia e la religione ebraica che noi possiamo oggi vedere attivi in Israele. Tutto questo ha portato con la crisi sulla riforma della giustizia, se vogliamo chiamarla così, ma a mio avviso è una crisi che riguarda proprio la forma di governo di Israele perché ovviamente in un sistema come quello israeliano in cui c'è una sola Camera e in cui oggettivamente la Corte Suprema interviene anche in materie di tipo politico, bene, in un sistema di questo tipo dove non c'è una Costituzione scritta e questo sarebbe anche un problema risolubile se Israele fosse in Inghilterra, fosse il Regno Unito, ma siccome non c'è una così lunga tradizione di mores anche istituzionali come quella britannica, il fatto di non avere una vera e propria Costituzione segnala proprio la necessità di legittimarsi in qualche modo con un compromesso giorno per giorno. In conclusione del mio editoriale citavo la metafora di un recentissimo libro di Danny Tom in cui l'autore francese descrive Israele come un ciclista bambino che pedala, pedala, pedala e poi a un certo punto gli viene da chiedersi come faccia a stare in equilibrio e se pensa a come sta in equilibrio rischia di cadere per terra. Quindi a questo punto io non ho soluzioni ma ho un problema che mi piacerebbe discutere appunto se Israele abbia necessità di non pensare a chi è quindi a non definirsi troppo dal punto di vista identitario ma anche del sistema politico e costituzionale o se invece non si è giunta l'ora per Israele di definirsi proprio per non cascare per terra. Questione aperta. Tutto questo concludo con un breve ricordo personale mi riporta alla sensazione che Israele trasmette di provvisorietà sensazione di provvisorietà che non deriva da una volontà di Israele ma deriva dalla sua storia e dal contesto in cui vive. Qualche anno fa mi capitò di chiacchierare con il capo delle forze armate israeliane che era un pilota a deviazione il quale mi raccontò del suo colloquio con Menachem Begin quando si trattava di andare a bombardare il famigerato la famigerata struttura atomica di Osirak in Iraq. Menachem Begin convocò i piloti che si avrebbero dovuti partire per colpire questo bersaglio iracheno i piloti studiarono il caso e poi gli dissero guardi signor primo ministro che anche se dovessimo colpire e far fuori questa struttura in tre mesi Saddam la ricostruisce e Begin gli rispose tre mesi per noi israeliani sono un'eternità. Ecco, io penso che in quell'apologo dell'ufficiale israeliano sia un po' racchiusa la magia e il problema di Israele ed è di questo che fra le altre cose mi piacerebbe parlare e ascoltare la vostra opinione. vi ringrazio. Grazie, grazie Lucio. Mi sento personalmente da lettore di Linies di consigliare molto l'editoriale di Lucio Caraccelo per me, già te l'ho detto in privato Lucio uno dei più belli che hai scritto negli ultimi mesi dove siete non ti occupati tra l'altro di temi certo non secondari Lucio Caraccelo è un analista geopolitico sui generis perché è uno di quegli analisti che utilizza la letteratura la storia anche i costumi popolari di una nazione per cercare anche di decifrarne la strategia geopolitica è ricchissimo io stesso che insomma un po' mi occupo di questo il contesto ebraico il contesto israeliano ho imparato molto anche alcuni aneddoti proprio sul piano culturale non solo sul piano geopolitico da questo da questo editoriale va bene la nostra scaletta adesso prevede praticamente Houston abbiamo un problema ci ha detto Lucio Caraccelo Gerusalemme abbiamo un problema con una però ci sono ed eccoci che diamo la parola a Sergio della Pergola per il suo intervento da Gerusalemme grazie amici buonasera a tutti buonasera i 196 coraggiosi grazie in preulogo agli organizzatori però veramente grazie cordialmente a Lucio che ha veramente fatto un bel lavoro sempre con molto tempismo va detto e anch'io ho molto apprezzato l'editoriale ora parliamoci francamente c'è gente che critica che Lucio lo sai c'è gente che dice tu sei antipatico e sei un nemico di Israele io sono questa volta ti ho difeso a spada tratta anche se in passato abbiamo un po' bisticciato certe volte ma insomma su delle cose anche magari marginali che facevo notare però a me è piaciuto l'editoriale anche perché come ha già detto Davide spazia mi è piaciuta molto ed è molto pertinente quella breve frase in cui ricorda in fondo le radici anche ottomane dello Stato di Israele non solamente il mandato britannico ma bisogna andare indietro un poco di più nella storia per capire determinati aspetti che sono molto fondamentali nella struttura e poi hanno delle implicazioni anche nel dibattito attuale anche se la gente non lo sa la gente tanto uno studia la storia ma poi si dimenticano certe cose quindi molto opportuni questi richiami a più ampio raggio intanto per dire naturalmente immagino che le persone abbiano letto il volume e quindi molte cose sono state dette inutile ripeterle vale la pena allora di partire da un brevissimo aggiornamento in questo momento ci sono in piazza circa 200.000 persone qui a Gerusalemme io le sento con questo orecchio dalla finestra perché io sto a circa un chilometro dalla Knesset e sono radunati in zona e quindi una dimostrazione di sostegno alla riforma da quello che ho visto fino a 5 minuti fa Netanyahu non era programmato ma stava parlando il ministro della giustizia Levin che è uno dei motori e poi il ministro Smutrich il deputato Rothman tutti quelli che sono i protagonisti di questi lavori ci sono è una grossa piazza quindi onore alla squadra avversaria perché insomma io chiaramente tipo per quell'altra squadra i numeri sono ovviamente quello che sono non si può arrivare a più di tanto si parlava ieri il programma era la dimostrazione del milione io ho fatto notare che per fare un milione di persone ci vogliono 20.000 autobus semplicemente non c'è lo spazio fisico oppure 250.000 autovetture oppure il doppio della popolazione di Gerusalemme civile diciamo ebraica se vanno a piedi quindi bisogna vedere quali sono i limiti però è indubbiamente un successo ho qualche riserva sullo stile perché abbiamo visto in televisione dei dimostranti calpestare le immagini della giudice Hayut della consigliera Barav Miara cioè questa è una caduta di stile francamente le dimostrazioni finora sono sempre state abbastanza tranquille è vero c'è sempre qualche facino roso ma l'invasione dell'autostrada urbana può dare fastidio anch'io fra l'altro ho partecipato a una grossa dimostrazione quella volta che mi trovavo a Tel Aviv abbiamo bloccato il traffico per 5 minuti insomma per l'autista il conduttore non è piacevole però la cosa si è svolta con molto garbo quindi c'è c'è una una certa caduta di stile di stile un po' iraniano ma e poi un'altra cosa il ministro Dudu Ansalem che è ministro aggiunto alla giustizia non è ministro della giustizia ma è ministro dei rapporti col Parlamento e ministro aggiunto alla giustizia ha detto questa frase geniale voi avete l'aviazione e la marina noi abbiamo i voti io non so vi lancio questa frase perché si può fare un discorso abbastanza approfondito su questo tipo di stile vabbè facciamo meno della marina e dell'aviazione vabbè voi avete i voti fate conduceteci dove ci volete portare comunque tornando a questo vorrei dire fin dall'inizio ci sono alcune considerazioni intanto da fare su quello che succede nell'immediato futuro perché il Parlamento è in recessione però non moltissimi giorni mi pare il 2 o 3 maggio si ricominciano i lavori o forse anche un po' prima la versione ufficiale è che non si ripropone immediatamente al voto la riforma finché sono in corso le trattative alla casa del presidente tra l'altro io ho sentito stamattina il presidente sono andato all'apertura del nuovo museo della tolleranza che si è aperto finalmente a Gerusalemme dopo molti anni di lavori un bel edificio e c'erano molti personaggi interessanti fra l'altro anche il governatore della Florida Ron De Santis che è uno dei papabili per la prossima presidenza che in parte dimostra un po' l'orientamento politico di questo nuovo museo ma è comunque sempre interessante vedere i personaggi dal vivo e ha fatto ovviamente un discorso molto pro israeliano dicendo anche questa frase praticamente ragazzi siete adulti e quindi i vostri problemi interni ve li vedete fra di voi noi non interveniamo però non è chiarissimo quello che succede alla ripresa dei lavori parlamentari perché in teoria basta una mozione d'ordine di un deputato privato e si può andare al dibattito al limite anche al voto su leggi che sono piuttosto cruciali quindi tutto sta nella capacità di auto trattenersi da parte della maggioranza che indubbiamente ha la maggioranza parlamentare non dimentichiamo c'è una maggioranza parlamentare per lo meno sulla carta i sondaggi come sapete di settimana in settimana mostrano uno slittamento da parte che parte dal governo e finisce all'opposizione uno slittamento che è abbastanza clamoroso che oramai è già di ben dodici seggi e che ogni settimana cresce questo naturalmente con tutta la riserva mentale nei confronti dei sondaggi io sono uno che i sondaggi anche li fa e quindi capisco i limiti del mestiere però è chiaro che c'è un movimento tettonico piuttosto importante il che vuol dire che anche soprattutto all'interno dell'Ikud cioè quelle frange o quelle fasce o quella parte più liberale più moderata di destra nazionale costituzionale che ancora esiste all'interno dell'Ikud anche se ha perso molto terreno è anche una una parte di quei sionisti religiosi che per mancanza di alternative hanno votato per Smutrich anche se loro in realtà erano i sostenitori di Bennett ma Bennett non c'era più e quindi bisogna votare per qualcuno è una fetta sostanziosa dell'elettorato che però è decisiva e quindi in questo momento qualcuno si rende conto che non c'è la maggioranza per la strada c'è la maggioranza in Parlamento naturalmente Netanyahu è l'ultimo degli stolti Netanyahu capisce perfettamente queste cose e pensa sempre qualche passo in avanti quindi se succede per malaugurato incidente che il Parlamento cade e ci sono le elezioni e dopo domani per loro è una catastrofe fra l'altro questo scenario non è assolutamente assurdo è molto improbabile cioè parlo delle elezioni anticipate ma va ricordato che per legge Israele deve approvare il bilancio entro la fine di maggio e quindi siamo oramai a circa un mese siamo lontanissimi c'è la bozza ma siamo lontanissimi dal chiudere un sacco di questioni per via di contrasti interni e soprattutto i Haredim pretendono assolutamente la riforma della legge sull'arruolamento dei giovani però perché questa legge possa passare pretendono che ci sia il diritto quindi di prevalenza del Parlamento sulla Corte Suprema perché la Corte Suprema immediatamente annullerà la legge se passa così com'è e quindi bisogna prima prevenirsi e quindi vuol dire ritornare sulla questione della riforma ma se la riforma è sospesa sine die finché ci sono trattative qui vediamo che c'è già un grosso conflitto di interessi all'interno della maggioranza tra l'altro mi domando a chi parlano i 200.000 che sono riuniti a un chilometro da casa mia parlano all'opposizione o parlano a Netanyahu è un discorso di politica interna della coalizione ma direi direi proprio di sì perché il più tentennante in questo momento è proprio lo stesso Netanyahu che come ripeto guarda avanti gli altri non hanno nulla da perdere sono dei personaggi che francamente sono stati inventati da Netanyahu ma in questo momento direi accecati da un delirio di potere io pensavo durante la serata di Pesach del seder di Pesach fra le varie Makkot cioè fra le varie gravi Shagure che colpirano gli israeliti nel deserto le dieci Makkot c'era quella delle cavallette mi pare che era questa la più tipica un branco di cavallette che si sono gettati sul potere travolgendo e consumando tutto e non lasciando assolutamente nulla ora quindi molto precaria la previsione su quello che può succedere subito dopo sempre che si possa arrivare a un compromesso ora certamente ci sono delle cose su cui ci si può mettere d'accordo indubbiamente la parola riforma può essere interpretata molto ampiamente e credo che non ci sia dubbio che ci sono sempre cose da migliorare ce ne sono tantissime anch'io sono a favore certamente di alcuni cambiamenti la Corte Suprema che è anche Corte di Cassazione è oberata da un eccesso di lavoro e poi a volte e ora arriviamo a un punto cruciale che io ho segnalato nel mio intervento sull'IMES c'è il problema della divisione dei poteri ma c'è anche il problema del vuoto dei poteri ne ho discusso fra l'altro questa settimana col presidente del Forum Kohelet di cui nessuno ha mai sentito nulla è in realtà un centro studi un think tank molto brillante molto interessante ultraconservatore per vari motivi che ha in realtà formulato le leggi della riforma cioè i politici sanno a malapena leggere un testo ma chi ha scritto i testi sono dei giuristi certamente feri molto motivati molto ideologici che hanno scritto fra l'altro un'interessantissima analisi comparativa del metodo di elezione dei giudici in 42 paesi fra cui l'Italia quindi questo è un lavoro universitario dubbiamente serio poi quando uno legge attentamente il testo scopre anche che ci sono degli errori fra l'altro c'è un errore che concerne l'Italia perché secondo il testo di Kohelet il presidente della Repubblica è il capo dell'esecutivo ora francamente no il presidente della Repubblica ha un ruolo importantissimo più forte fra l'altro rispetto al presidente della Repubblica israeliana certo non è il capo dell'esecutivo ma è anche il capo di una cosa che pochi capiscono e che è il consiglio superiore della magistratura che invece secondo Kohelet è la Corte Suprema cioè c'è una grossa confusione allora io però gli ho fatto notare questo se tu fai un lavoro di ricerca supremamente ben fatto e hai una tua idea come si dice in ebraico con la kavod onore al merito e ci combatteremo a colpi di fioretto e poi vedremo però la base analitica è corretta ma se oltre a delle idee che io non condivido fai anche degli errori di fatto allora mi spiace tanto il tuo ruolo diventa veramente semplicemente deleterio però sta di fatto che il Kohelet ha un'enorme influenza sull'opinione pubblica tutti ripetono gli stessi slogan dalla persona più semplice al mercato fino anche a una certa piccola fetta di professori i professori in generale hanno firmato appelli contrari alla riforma ma tutti ripetono le stesse veline e queste veline provengono da questo forum questo è anche un po' increscioso diciamo dal punto di vista della formulazione delle posizioni però come io accennavo nel mio intervento sull'IMES e devo ripetere il grosso problema non è la Corte Suprema la Corte Suprema che è al centro di questa discussione oggi in questi giorni indubbiamente è molto interventista e allora si dice una dittatura è un'usurpazione e appunto anche con toni molto molto volgari e molto molto estremi fra l'altro contro il giudice Barak ora la gente ha la memoria corta il giudice Barak che è stato innanzitutto il braccio destro di Begin e Begin venerava Barak quindi chiaramente non poteva essere un pericoloso trotschista secondo luogo Barak ha sempre avuto una posizione estremamente ferrea sui diritti civili e sui diritti umani e sulla parità dei cittadini di fronte alla legge e ha anche però sostenuto posizioni molto pro difensive pro esercito e al limite anche pro occupazione dei territori quando il caso si presenta nella forma se l'esercito ha usato eccessiva forza o se un determinato coprifuoco fosse difendibile o no la corte suprema di Barak ha sempre difeso il potere costituito e quindi è sempre stato per anni attaccato da sinistra ora improvvisamente viene attaccato da destra cioè questo dimostra una totale dimenticanza di quello che è stato in realtà il processo diciamo giuridico barra politico nello Stato di Israele ma il problema vero serio grave che io segnalo è la Knesset cioè è il Parlamento se c'è da fare una riforma urgente è la riforma del Parlamento e non della Corte Suprema in funzione della riforma del Parlamento allora chiaramente si potrà riformare la Corte Suprema come dico la Corte Suprema è molto interventista e a volte allora c'è chi dice occupa degli spazi che sono gli spazi invece di un'altra autorità che sarebbe il legislativo ma il legislativo ha fallito purtroppo il legislativo per 75 anni non ha mai risolto i problemi fin dalla prima Knesset quando si decise di non fare la Costituzione che questo era lo scopo dell'Assemblea Costituente la prima Knesset non era la prima Knesset era l'Assemblea Costituente che finì col famoso compromesso Arari bellissimo compromesso del deputato Arari che disse facciamo le leggi fondamentali una per una alla fine e ci arriveremo però il fatto fu deciso di non decidere così come questo l'IMES viene riportato non fu deciso chi è ebreo non fu deciso chi è una conversione che cos'è una conversione non fu una decise una quantità di cose che lasciano degli spazi che però non possono rimanere vuoti e quindi di fronte al fluire della vita quotidiana la Corte deve risolvere i casi i casi sono uno per uno è il cittadino Pinco contro il Ministero degli Interni e qui qualcuno deve pure decidere allora si applicano dei principi e i principi sono i principi di uguaglianza di fronte alla legge di equità di giustizia di plausibilità così come non si può nominare a Ministro del Tesoro il famoso evasore fiscale senza fare nomi cosa che che invece dovrà succedere fra un anno in funzione degli accordi di coalizione questo è implausibile la Corte Suprema lo ha detto e allora hanno detto lo hanno fatto perché era sefardita cioè è un deviare il discorso da quelli che sono i parametri fondamentali la Knesset si basa purtroppo su un metodo elettorale grottesco sul quale francamente si rimane sbalorditi quando ci si riflette cioè il famoso collegio unico nazionale senza preferenze con liste fissate o dai partiti o da delle primaries che fanno abbastanza ridere quindi con intere zone del paese senza un deputato e la città di Gevron che avrà 2000 ebrei con due deputati anzi due ministri cioè è totalmente sbilanciato non si può pensare che in Italia l'intera regione Sicilia e la Sardegna non abbiano deputati ma la città di Vigevano abbia quattro ministri non esiste in Italia e non esiste in nessun altro paese in cui esiste accanto a un giusto criterio proporzionale anche una certa rappresentanza maggioritaria regionale quindi in questo senso il problema alla radice è che è completamente fuori dal discorso non se ne parla assolutamente è ovvio che anche le proprime elezioni si faranno con lo stesso metodo lo stesso metodo riprodurrà un Parlamento che sarà un po' diverso ma comunque basato su delle coalizioni in cui i partiti piccoli ricattano i partiti grandi e poi come abbiamo oggi la grande vittoria elettorale in realtà il Likud ha la metà nemmeno la metà più uno dei seggi della maggioranza e quindi non è in grado di fare nulla perché le altre fazioni della maggioranza governativa quella famosa destra-destra che quindi esclude a priori un sacco di persone non può funzionare se non dando a tutti tutto quello che chiedono la vera discriminante ripeto è quella di riconoscere se in Israele tutti i cittadini sono pari di fronte alla legge questa è la vera discussione non viene detta in maniera aperta però su questa discussione la maggioranza governativa di oggi ti dice chiaramente no e quindi chi invece dice sì allora diventa un pericoloso anarchico diventa addirittura un traditore della patria ora la questione è se questo non tutti i cittadini sono pari di fronte alla legge sia il necessario portato dello stato ebraico ossia se l'ebraismo necessariamente ci imponga questo principio oppure se sia semplicemente un'interpretazione che a titolo di comodo si basa su determinate cose che volendo leggere il testo effettivamente ci sono ma volendo leggere il testo invece non ci sono io penso francamente che l'ebraismo proietti questa è la mia opinione personale chiaramente non sono un rabbino e altri lo possono fare meglio di me ma nella prospettiva storica l'ebraismo proietta enormi valori di giustizia di equità e di attenzione ai diritti delle persone e dei deboli si possono dare infiniti esempi in questo senso tanto più poi rapportandosi al periodo storico in cui sono stati definiti questi testi e quindi non il contrario il contrario è che gli uomini sono superiori alle donne che gli ebrei sono superiori agli arabi che gli straight sono superiori ai gays e tante altre differenze che sono la richiesta chiara di una parte non di tutta ma di questa maggioranza e contro la quale ovviamente il buon e oggi anziano un po' stanco giudice Barak aveva combattuto per tanti anni e soprattutto durante gli anni in cui Likud era già al potere in cui Begin era il primo ministro ci sono dunque delle grosse contraddizioni ora purtroppo queste contraddizioni sono arrivate al limite del pazzesco quando vediamo dei personaggi assolutamente indegni che sono stati nominati ministri in particolare Bengvir c'è stata l'avrete visto forte ma comunque vale la pena di ricordarlo il 75esimo Yomaz Maut il 75esimo giorno d'indipendenza preceduto come è noto dal giorno della rimembranza dei caduti nelle forze militari via ebbene ai cimiteri militari si sono presentate le autorità per fare i discorsi di dovere e il ministro Bengvir che era stato invitato a non presentarsi il ministro Bengvir che non ha mai fatto il servizio militare e che va a un cimitero militare a compiangere coloro che sono caduti facendo il servizio militare è stato azzittito e alla fine le cose sono riscaldate c'è stata una vera e propria colluttazione sopra le tombe di questi ragazzi quindi purtroppo è una situazione assolutamente tragica cioè è l'infangare i simboli più sacri che ci possono essere in questo paese c'è chi non si rende conto che ci sono dei momenti in cui la vera e unica soluzione è il silenzio è l'astenersi è il non dire e il non fare ma purtroppo questa è la caratteristica di queste persone che io anche nel mio articolo ho definito al limite della distribuzione statistica mi spiace dire della normalità cioè abbiamo tre o quattro personaggi che francamente sembrano emersi da un film dell'orrore quindi che cosa succede ora concludendo succede che molto dipende dalla capacità diciamo così di mediatore e dialettica di Herzog il quale fa veramente di tutto sperando che ci sia la disponibilità a non arrivare alle estreme conseguenze di una spaccatura che può portare a delle conseguenze veramente disastrose a più lungo termine i vari temi sono stati già in parte ricordati da Lucio in parte anche da Davide e poi nel mio articolo anche ho dato una brevissima sintesi c'è solo una cosa che voglio aggiungere ed è il rapporto israele-diaspora la diaspora non segue cioè quello che qui non si capisce è che la struttura sociologica psicologica ma anche politica onestamente oggi meno socio-economica tra parentesi oggi la socio-economia che un tempo era diversissima non è più tanto diversa in Israele siamo una nazione di laureati più della metà dei giovani si laureano cosa che chiaramente in Europa non succede e quindi non è più la situazione in cui dall'Europa si mandavano pacchi di abiti usati e vecchie scarpe perché le persone in Israele non avevano queste risorse oggi è Israele che può mandare parecchie cose fuori in certi casi ma quindi non è questo però la mentalità in parte l'attitudine della minoranza che sviluppa determinati meccanismi di difesa di fronte ai rischi che sempre ci sono l'antisemitismo e l'ingiustizia che esiste del forte contro il debole ma comunque il risultato finale è che se facciamo oggi un sondaggio e ce n'è uno solo che io conosco un vero sondaggio è stato fatto in Canada che dà una maggioranza schiacciante alle persone che obiettano alla riforma ma certamente agli Stati Uniti in Europa forse la situazione è leggermente più equilibrata se guardiamo agli sviluppi politici del voto ebraico negli ultimi anni ma comunque certamente non c'è una chiara maggioranza nel senso di questo tipo non modificato di riforma quindi vuol dire che c'è una totale distacco una totale non comprensione dell'ebraismo della diaspora ossia di quel mondo ebraico in funzione del quale in definitiva anche Israele esiste se Israele vuole dirsi lo stato ebraico deve anche capire che ci sono degli ebrei e deve anche capire chi sono cosa vogliono e cosa pensano questi sono i limiti purtroppo anche della dirigenza politica al vertice della quale c'è un uomo molto intelligente molto capace molto carismatico purtroppo oramai a mio modo di vedere un poco sul viale del tramonto io lo vedo molto invecchiato e vedo che si rende conto di essere entrato in un vicolo cieco è l'apprendista stregone che ha messo in movimento qualche cosa che oramai non domina più e si sta domandando come venirne fuori interessantissima quella piccola notizia che appare a pagina mi pare 12 della Arez in cui si vede che è in corso una trattativa fuori le mura tra gli avvocati di Netanyahu e gli avvocati della procura di Stato per vedere di trovare un compromesso nella causa che lo vede impegnato di truffa corruzione e malgoverno il che vorrebbe dire che si rende conto che forse anche Netanyahu deve fare un passo indietro cosa che non ha non ha mai voluto ammettere fino a questo momento quindi in realtà quello che io ho presentato qui è un quadro abbastanza confuso e abbastanza incerto ci sono vari sviluppi sviluppi che possono portare a una pacifica composizione del discorso rimandando certe cose e trovando certe interessanti formule intermedie anche se su una cosa c'è poco da fare o il governo ha la maggioranza nella elezione dei giudici o il governo non ha la maggioranza non ci può essere un caso intermedio o sì o no sarà a differenza di uno ma comunque su questa bisogna bisogna prendere una decisione se si riuscirà a fare questo il paese può ripartire in realtà Yomaz Mahut era commovente veramente commovente sentire le varie dichiarazioni di tante persone e poi hanno fatto il concorso della più bella canzone israeliana negli ultimi 75 anni c'erano 10.000 canzoni in mille poi 75 e alla fine i 10 migliori sono canzoni di una bellezza la musica popolare israeliana che è molto diversa è di una bellezza fenomenale e suscita al limite commozione e cioè dire la bellezza la purezza l'intensità di quello che anche culturalmente anche se sto parlando di cultura popolare ma la cultura popolare è veramente meravigliosa può fare e dire siamo bloccati inceppati è veramente una cosa molto molto triste quindi non resta che sperare che alla fine il buon senso prevalga e che il buon presidente Herzog riesca a dare un colpo di timone e che fra alcune settimane si possa dire la trattativa continua il paese va avanti e poi si vedrà grazie 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 Sergio per la panoramica ampia e per ovviamente anche le ultime notizie che ci hai dato dalle manifestazioni praticamente attaccate a casa tua bene adesso direi anzitutto direi Sergio che la tua disamina ha un po' confermato questa idea che attorno a questa riforma della giustizia ci coagulino invece dei nodi indiscussi che appartengono allo Stato di Israele abbiamo detto due visioni diverse di Israele ma addirittura anche all'identità ebraica al modo in cui la possiamo pensare e declinare due visioni diverse dell'identità ebraica questo è solo per dire quali sia oggi la posta in gioco il microfono aperto per cortezia chiudete i microfoni ormai siamo tutti esperti allora prima di procedere alla nostra discussione è arrivato che in realtà era qui da prima ma non riusciva a intervenire col microfono Milo Casbani gli cederei allora giusto la parola per un minuto di saluto insomma così grazie l'unione delle comunità ebraiche italiane grazie grazie ringrazio Sergio è sempre un piacere sentirlo saluto tutti saluto il presidente mio amico Pierfrancesco Fumagalli Lucio Carrocciolo e Mimì Navarro Mimì mi ha chiamato la settimana scorsa per avere il patrocinio dell'unione delle comunità ebraiche l'abbiamo dato molto volentieri e lo faremo per i vostri prossimi incontri quando volete abbiamo festeggiato anche noi due giorni fa il Yomax Mahut è stata una bellissima festa di solito festeggio anch'io perché anch'io faccio 75 anni però con la la mia data lo farò la prossima settimana abbiamo festeggiato il 25 come giustamente la tata giusta Yomax Mahut è stata veramente molto sentita all'interno della comunità ebraica di Milano volevo solo dire che domenica anche noi abbiamo la visita del presidente della Knesset un mese fa abbiamo avuto sempre a Roma l'incontro con Netanyahu che è finito purtroppo appena uscito Netanyahu è finito abbastanza male con delle grosse discussioni all'interno della della comunità però insomma come ha detto Sergio diciamo è un tema molto molto attuale anche anche in Israele dunque siamo stati coinvolti indirettamente anche noi siamo siamo coinvolti anche in questo ecco ringrazio tutti e saluto da parte della comunità ebraica di Milano e anche dell'unione della comunità ebraica grazie grazie Emilio Casbani prendiamo queste discussioni anche interne alla comunità italiana come una conferma del legame strutturale che esiste fra Israele e la diaspora visto che gli schieramenti di là se ripropongono poi inevitabilmente nella diaspora e anche nella diaspora italiana bene allora un passaggio Sergio della Pergola ha detto ci vorrebbe un rabbino per capire un po' come decifrare l'identità ebraica interpretare alcuni passi noi oggi siamo contenti perché un rabbino ce l'abbiamo che non è solo un rabbino abbiamo detto che lavora anche nel campo dell'ingegneristica a Haifa e proprio da Haifa che ci parla Rav Mikhail Ascoli e so che vuole affrontare la grande questione insomma del tema educativo in Israele alcuni sostengono che proprio lì per come è strutturato tutto il sistema educativo israeliano anche nella sua emanazione istituzionale quindi scolastica nascono molti dei problemi che oggi dobbiamo affrontare però naturalmente Mikhail a te la parola a ruota libera parti da dove vuoi arriva dove vuoi grazie grazie Davide ringrazio le associazioni Italia e Sorelle di Milano e l'Eklecha per aver organizzato questo incontro in particolare ringrazio Mimina Barro per avermi coinvolto in questa serata allora effettivamente ho scelto come tema qualcosa che ha a che fare con l'educazione ma come credo diventerà subito evidente lo faccio in modo un po' differente dal modo in cui è stato trattato per esempio negli articoli sull'IMES e non penso neanche che alla fine darò la risposta che auspicava della pergola soprattutto perché ritengo che questa risposta non ci sia l'esercizio di definire chi è ebreo risale alle origini dello stato ebraico e sappiamo bene che esistono tantissime posizioni rabbiniche e non in quell'occasione molto diverse tra loro quindi il problema è destinato a rimanere aperto e credo che sia pure un bene che rimanga in qualche misura aperto per deformazione professionale quando Mimimi ha chiesto un titolo per la conversazione di questa sera ne ho scelto uno che richiama una tecnica molto impiegata nel campo ingegneristico ed è la tecnica della root analysis cioè di andare a cercare l'origine la radice appunto di un problema si parte da un problema e lo si analizza cercando di risalire alla sua fonte appunto la sua radice riferendosi alla situazione israeliana attuale non pretendo di avere esiti definitivi da presentarvi probabilmente le cause remote della crisi sono più di una e perfino sulla metodologia di analisi occorrerebbe mettersi d'accordo in maggiore dettaglio spero tuttavia di mettere in luce un elemento che ritengo decisivo per capire la situazione e che invece viene troppo spesso ignorato e questo elemento è l'incapacità di dialettica mi pare un tema assolutamente trascurato del quale anche il numero di Limes di cui parliamo stasera non mi sembra che tra per incapacità dialettica non intendo solo la mancanza di volontà di dialogo quanto soprattutto la reale mancanza di capacità dialettica e ciò affonda le sue radici in un problema educativo eccomi al problema educativo così come vorrei presentarlo stasera e dicevo affonda le sue radici in un problema educativo profondo e generalizzato della società israeliana qualcuno dirà non solo della società israeliana è un problema assai più generale che riguarda il mondo intero o almeno il mondo occidentale è vero ma è di Israele che parliamo stasera quindi concentriamoci su Israele ma andiamo con ordine partiamo cioè da oggi e andiamo indietro nel tempo il quadro che si presenta oggi è complesso escludiamo a priori che qualcuno riesca ad averne una visione oggettiva e completa che cosa scegliamo di vedere il governo le manifestazioni certo inevitabilmente però preferisco partire da un paio di dati statistici e invado per un attimo il campo del professor della pergola campo statistico Israele oggi sfiora i 10 milioni di abitanti 9,7 per la precisione popolazione giovane e in crescita con un'ottima economia nonostante i pesanti travagli dell'ultimo periodo ma pur sempre con un'ottima economia e società caratterizzata da grande ottimismo comprovato fra l'altro dal collocarsi al quarto posto nella graduatoria fra i paesi più felici del mondo questo quadro è un quadro essenziale per capire l'atmosfera che si respira in piazza nelle manifestazioni qua mi riferisco all'atmosfera delle manifestazioni quelle contro la riforma quella di stasera a favore della riforma va senz'altro menzionata e analizzata ha sottolineato prima della pergola il 200 mila persone presenti e vale pure la pena richiamare che questi 200 mila sono senza l'apporto dei hareddin che hanno scelto di non esserci quindi un numero ancora più ragguardevole da questo punto di vista ma l'atmosfera lì è tutt'altra e quell'episodio che giustamente ha sottolineato prima del calpestare la figura dell'oppositore è indice di di uno stato d'animo affatto differente rabbioso e di matrice che purtroppo richiama agli esempi dei nostri peggiori nemici allora torniamo alle manifestazioni dell'altra parte quelle contro e anche qui diamo qualche numero sabato sera scorso se io ho contato bene prima Davide diceva 20 io credo che sabato sera sabato sera scorso sia stata la sedicesima settimana di fila sedicesima settimana in cui comunque centinaia di migliaia di persone scendono in piazza una settimana dopo l'altra regolarmente a manifestare un'atmosfera che è un'atmosfera quasi di festa sicuramente di speranza e di entusiasmo è vero che qualche scontro c'è stato ma assolutamente secondario tanto per mettere le cose nelle giuste proporzioni se guardiamo un attimo a quello che è successo qualche giorno fa in Francia in seguito alla riforma dell'età della pensione è evidente che il confronto non inizia neppure non c'è confronto però non facciamoci prendere dall'euforia se Israele è oggi fortemente democratico con pieno diritto a manifestare ciò non garantisce che sarà necessariamente così anche domani laddove ci fosse un regime con forte potere repressivo il coraggio potrebbe non bastare esempio estremo estremo e tristissimo sono i giovani in particolare le giovani iraniane Israele è stratosfericamente lontano dall'Iran pure nel peggiore degli scenari immaginabili ma è tanto per enfatizzare il punto nulla può darsi per acquisito definitivamente e quindi neanche questo veniamo allora al problema le manifestazioni e segnatamente quelle spontanee che sono avvenute in seguito al licenziamento poi ritirato del ministro Galant hanno ottenuto una prima vittoria lo dicevate prima la sospensione del percorso di approvazione della riforma della giustizia e per la verità cito qui le manifestazioni ma ci sono state per brevità ci sono state anche altre forme di opposizione e protesta che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato ma chi è questa gente che scende in piazza a protestare contro la riforma secondo il famoso discorso delle tribù dell'ex presidente Rivlin che il direttore Caraccio ha citato pure prima dovrebbe trattarsi della tribù dei laici e tuttavia ritengo che questa sia una iper semplificazione la manifestazione più emblematica di tutte a mio avviso è stata quella di quella organizzata da Joas Handel ricorderete Joas Handel uomo di destra ministro nel passato governo è stato fondatore di Derek Heretz è stato anche autore di quel tentativo poi naufragato di presentarsi alle ultime elezioni insieme alla formazione di Ayelet bene la manifestazione organizzata da Handel ebbe luogo pure quella a Gerusalemme era il 13 marzo sera e lì fra gli altri è intervenuto Ramos Lichtenstein Ramos Lichtenstein è direttore della Yeshiva di Arezion vi spiego meglio parliamo di una manifestazione di destra contro la riforma alla quale partecipa il direttore di una Yeshiva fra le più importanti del mondo sionista religioso che viene da Gush e Zion dite pure dai territori se così vogliamo chiamarli insomma il ritratto perfetto dell'anarchico no? così ci ritorniamo la fatica di parlare di manifestazioni di sinistra e di altre stupidaggini che vengono messe in giro e così come slogan che però sono privi di qualsiasi significato allora la gente che scende in piazza sarà pure principalmente laica ma non solo e comunque costituisce una comunità assai più complessa e bariopinta a Haifa ha ricordato prima Davide sono di Haifa a Haifa sono stato testimone di un episodio curioso alla manifestazione c'era un allegro gruppetto di ragazzi della Shomer al-Zahir per movimento giovanile questo si di sinistra e dal parco parlava Lieberman Lieberman leader di Israel Beteno diciamo per semplificare il partito dei russi certamente partito di destra parla Lieberman parte un applauso da questo gruppo di ragazzi qua poi i ragazzi della Shomer si guardano fra loro un po' perplessi e noi applaudiamo Lieberman e in quella stessa serata dal palco si sono alternati fra gli altri un imprenditore che si dichiara di destra vive in Samaria sempre territori se vi fa piacere è un araba di Farmanda villaggio della Galilea a mezz'ora da Haifa l'arabanit Fruman da Tekoa sempre di territori parliamo è un esponente di Merez partito di sinistra che nell'ultima Keneset come ricorderete non è riuscito a entrare e questa gente tutta questa gente è stata fraternamente insieme in piazza pensano tutti le stesse cose manco per niente saranno la domanda vera e saranno in grado di elaborare qualcosa oltre che esprimere l'opposizione a questa riforma e genericamente opposizione al governo Metaniao qui segniamo un primo punto che ha a che fare con la dialettica perché l'opposizione da vent'anni ero oggi forse anche di più ma certamente peccato di essere solo anti Netanyahu e non propositivo seguiamo un altro ramo e parliamo e parliamo del governo in ebraico si usa spesso un'espressione un'espressione che è ripresa dal libro dei proverbi che in ebraico suona Evet Kim Loh il servo che arriva al potere discostandosi un po' dal significato originale nel linguaggio comune questa espressione indica chi partendo da una situazione di subordinazione ascende a una posizione di potere e questo potere lo esercita in modo tirannico e sfrontato questo si applica tristemente agli onorevoli Rothman e Levine i protagonisti di questa riforma e a svariati altri della compagnia al di là di ogni valutazione di merito infatti sulla riforma giudiziaria è proprio la marcia forzata con cui hanno cercato di applicarla le maratone fino a notte fonda con cui i promulgatori della riforma hanno cercato di farla approvare qualche legge nel frattempo l'hanno anche fatta approvare l'intransigenza lo slogan costantemente ripetuto abbiamo vinto noi quindi ora decidiamo noi e questo mi ricorda il famoso tema la maggioranza decide oppure la maggioranza tiene conto della minoranza è evidente che qui ci sia un orientamento da parte di chi ha vinto le ultime elezioni a scegliere la prima alternativa quella quella più diciamo quella più decisa quella che dà più forza al potere e assai meno alla considerazione dell'altra parte e e quindi tutto questo marcia forzata intransigenza slogan ripetuti sono espressioni di due caratteristiche fondamentali frustrazione e arroganza che vanno di pari passo e qui segniamo un altro punto fondamentale da dove viene la frustrazione dei sionisti religiosi e da dove viene quella dei charedini gli ultraortodossi questo aspetto è fondamentale perché il sentimento di rivalza è trasparente è esplicito un sacco di gente ti dice in faccia voi avete fatto così a noi ai tempi di gush katif così dicono i sionisti religiosi la versione dei charedini voi avete fatto così cercando di imporci lo studio delle materie secolari e noi reagiamo cancellandomi dunque ci risiamo il sentimento di rivalza deriva da un fallito dialogo ai tempi di gush katif e dalla riforma scolastica per i charedini a sua volta per i sionisti religiosi questo rimanda agli accordi di oslo all'omicidio di rabbin e ancora più indietro nel tempo sono tutti episodi nei quali si è preferito lo scontro al dialogo si è cercato e fomentato lo scontro prendiamo l'occasione di gush katif ritiro da Gaza siamo meno di vent'anni fa il sionismo religioso inculcava nei giovani nei giovanissimi all'epoca minorenni in massima parte la certezza tra virgolette che sarebbe avvenuto il miracolo che alla fine il ritiro non ci sarebbe stato sarebbe successo qualcosa di miracoloso per cui il ritiro non ci sarebbe stato e quello è stato uno dei momenti di massima deriva anche teologica secondo me del sionismo religioso bisogna fare attenzione che pure dall'altra parte semplificando dall'altra parte avviene qualcosa di simile pensate solo al termine adatta adatta io non so bene come tradurlo dovremmo tradurlo penso il religiosimento forzato più ancora che coercizione religiosa in realtà è un neologismo è un neologismo risale al 2006 come attestazione dell'Accademia per la lingua in ebraico e oggi ogni manifestazione pubblica di ebraismo tradizionale viene attaccata da una certa parte dei laici come adatta tentativo di forzare la religione sulla pubblica piazza ecco anche che da questa breve analisi emerge indisponibilità al dialogo abitudine a sopraffare piuttosto che a discutere prendiamo un altro ramo consideriamo la situazione da un altro punto di vista Israele è la start up nation creativa innovativa senza paura di osare potrei facilmente portare esperienze personali nel mio piccolo di quanto più ardito coraggioso in generale di successo sia il modello lavorativo israeliano rispetto a quello italiano e da questo deriva una buona parte della potenza dello stato di Israele tanto dal punto di vista militare che da quello tecnologico e anche economico e alla base di questo c'è fra l'altro una propensione agli studi scientifici nel 2015 Naftali Bennett definì minaccia strategica il numero non sufficiente a suo avviso di ragazzi che completavano la maturità di indirizzo matematico pieno con la massima estensione dello studio della matematica a livello liceale e questa propensione scientifica e all'innovazione è una risorsa enorme solo dell'altro ieri per fare un esempio di cui andare fieri c'è la notizia della squadra tra le tre ragazze israeliane che ha fatto scorpacciato di medaglie agli europei di matematica quindi tutto questo va benissimo il problema nasce laddove tutto ciò va a scambito degli studi umanistici perché sono gli studi umanistici quelli che coinvolgono una capacità di analisi una capacità di critica e soprattutto di opinione ossia della capacità di recepire risposte diverse che non siano necessariamente o giuste o sbagliate ma possono essercene più di una allo stesso tempo vi riporto anche un fatto significativo ho vissuto come come padre prendete la pure come una curiosità ma ritengo che sia indicativo i ragazzi alle medie in israele sono spesso incentivati a fare corsi complementari di arricchimento sono in generale corsi molto interessanti davvero formativi e tanto per citare un esempio c'è quello dei giovani imprenditori davvero una cosa valida e così ce ne stanno tanti altri e ce n'è anche uno che va per la maggiore che si chiama debate eccolo là eccolo il dibattito e invece no il senso del corso è quello di come prevalere sull'altro di come essere convincenti altro che dibattito lo scopo è quello di riuscire a prevalere non a interlocuire ora a questo punto forse direte ma com'è proprio i partiti religiosi dovrebbero essere espressioni di quella formazione talmudica che è tutta dialettica no dovrebbe essere così però qui abbiamo un altro grosso problema c'è una tendenza sempre più forte ad adottare quella che si chiama data Torah data Torah l'opinione della Torah anziché dialettica allora abbiamo grandi maestri di Torah e chiaramente ogni gruppo si sceglie i propri e disconosce gli altri la cui autorità l'autorità di questi maestri è indiscutibile tanto in questioni di Allah cioè di normativa ebraica quanto in questioni di vita quotidiana e particolarmente di politica ecco qui che non sussiste più discussione e nemmeno la necessità di provare rigorosamente una data posizione basta l'autorità di chi l'afferma questo è un fenomeno antico relativamente deriva dal mondo Haridi degli inizi del novecento e si diffonde sempre più nel mondo sionista religioso soprattutto fra quei discepoli di Rav Kuk parlo di Rav Kuk padre Yitzhak Avram Kuk che si opponeva strenuamente all'utilizzo di data Torah nonostante questo è sempre più in voga questa definizione vediamo quindi che anche da questo punto di vista seguendo questa questo ramo di dialettica di dialettica non ce n'è e c'è piuttosto asserzione che non ammette controllo e qui veniamo all'ultima cosa di cui posso parlare ragionevolmente in questo intervento è il modo in cui una persona come Smutrich si collega alla figura di Rav Kuk il ministro Smutrich infatti si è formato al Mercasarab Mercasarab è il centro di studi rabbinici talmudici che si rifà appunto a Rav Kuk a Rav sarebbe Rav Kuk ora Rav Kuk padre sottolineo di nuovo non non il figlio Zbiyodah Rav Kuk era è stato peraltro il primo rabbino capo in Israele quando non c'era ancora lo Stato quando si era sotto il mandato britannico forse dal punto di vista della Lakhad ossia della normativa ebraica era perfino un conservatore ma era persona di grande cultura generale oltre che ebraica era aperta alla filosofia era persona di respiro universale fu fra l'altro il primo a dare una giustificazione teologica al pionerismo laico israeliano quindi a portare o a cercare di portare questo movimento laico fondamentalmente laico all'interno dell'ebraismo all'interno di una narrazione coerente con l'ebraismo e c'è stasera non è che possiamo metterci a parlare di Rav Kuk ma c'è almeno un aspetto del suo pensiero che va richiamato perché questo sia inerente alla nostra conservazione Rav Kuk pronava gli ebrei religiosi a sviluppare tutti quanti gli ambiti dello scibile umano ad essere presenti in tutti gli ambiti dello scibile umano ecco adesso io vorrei far vedere una cosa questo giornalino qua è uno di quelli dei tanti che vengono distribuiti al sabato nelle sinagoge ed è un ottimo indicatore di che cosa pensano i sionisti religiosi e anche qui devo precisare di una parte dei sionisti religiosi perché ci sono altri simili giornalini che vanno in tutt'altra direzione e hanno tutt'altro orientamento e allora comunque qui in questo che ho conservato apposta pensando a stasera Smutrich viene attaccato da destra e non deve stupire l'intervista a Smutrich che è per questo che sta in copertina l'intervista a Smutrich nel numero è uscito il 5 aprile quindi subito dopo lo stop alla riforma sapete come inizia l'intervista? l'intervista inizia con queste parole avete subito un KO la destra sionista religiosa non ha dialettica o si vince o si perde e perdere non è ammissibile e infatti il ministro Smutrich risponde non abbiamo affatto perso anzi e inizia a dimostrare come in realtà abbiamo vinto ma vi cita in particolare un passo breve della sua intervista dice Smutrich oggi ai uomini del sionismo religioso nell'esercito fino al grado di comandante di divisione ma fa che ci sono però almeno altri tre livelli sopra allora lui prosegue e dice ma poi poi c'è il soffitto di cristallo che è un'espressione molto frequentemente usata in ebraico per indicare una soglia invisibile ma non oltrepassabile che qualcuno ti impone prosegue Smutrich dicendo e questo è vero nell'accademia e in tutti gli altri enti allora ci risiamo noi non occupiamo dice Smutrich sostanzialmente noi non occupiamo posizioni al vertice perché siamo discriminati allora il messaggio di Ralph Cook è così completamente manipolato non è più un obbligo corgente per il pubblico sionista religioso quello di darsi da fare per essere presenti e per contribuire allo sviluppo di ogni campo dello civile umano ma se non ci siamo è perché qualcuno ci ha negato questo diritto perché abusa del proprio potere e ci tiene fuori a forza e prima o poi gliela faremo vedere noi nessuna riflessione nessun dialogo solo dimostrazione di forza allora tiro le somme di quanto ho cercato brevemente di dire in questa breve analisi individuo nella mancanza di abitudine al dialogo oltre che nella mancanza di volontà di dialogo una radice importante dell'attuale crisi israeliana uno dei successi delle proteste è stato quello di far scoprire o riscoprire la necessità di questo dialogo e oggi per fortuna ci sono tantissimi gruppi spontanei che nascono che speriamo che abbiano successo che riescano a proseguire e che riescano a dare di frutto occorrerà agire in due modi nell'immediato servirà a rivolgersi a facilitatori di dialogo anche professionali dove è possibile è quello che per esempio sta facendo il presidente Erso a lungo termine e qui la sfida è assai più difficile occorrerà ripensare il modello educativo nelle scuole e altrove voglio infine sottolineare perché siamo partiti ricordando il quadro ottimista dello Stato di Israele come un Stato fondamentalmente ottimista e quindi finiamo in modo positivo come credo che sia opportuno fare da questo momento storico nascono a mio avviso due opportunità preziosissime forse di più ma in particolare queste due uno il risveglio di una parte del pubblico sionista religioso a definire una propria identità che non sia appiattita sulle posizioni di chiunque sia a capo del partito che dovrebbe rappresentarlo come ci diceva prima il professor della Pergola prima si è votato Bennett poi adesso si è votato Smutrich e Ben Gvier perché non c'era altri che rappresentassi forse è arrivato il momento e credo che si sia iniziato a prendere coscienza che è arrivato il momento di non accontentarsi di chiunque sia ma di sviluppare un proprio modello la seconda opportunità che individuo è l'opportunità per il pubblico arabo-israeliano di riverificare la propria identità senza schiacciarsi su quell'autoimposto ruolo di vittima che così troppo spesso li caratterizza e in questo senso il partito RAM ha già fatto e continua a fare importanti passi e alla convention di oggi che citavate prima al museo della tolleranza è intervenuto anche il leader del partito RAM Mansour Abbas anche oggi vale la pena andare a leggere quale tipo di dichiarazioni ha rilasciato dichiarazioni che sicuramente sono incoraggianti e che lasciano sperare nella possibilità di un futuro migliore mi fermo grazie Michele veramente intervento bellissimo grazie perché ci hai dato credo che tu abbia aggiunto effettivamente delle informazioni per tutti noi perché se tutto emerge effettivamente una frammentazione ancora più capillare interna agli stessi gruppi il che da un lato magari può far persino sperare in una composizione generale perché ci sono delle forze interne agli specifici gruppi che probabilmente vogliono applicare un elemento di dialogo come dici però certo dall'altro è ancora più disperante il panorama perché a questo punto abbiamo una scissione dell'atomo 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 e allora è un quadro ancora più complesso grazie tante personalmente per il riferimento a Rav Kuk padre che io sostengo essere una figura su cui si dovrebbe lavorare e che forse anche il mondo laico israeliano ha in quel caso lì perso un'occasione rifiutando quella prospettiva famosa la battuta di Amos Oz scrittore universalmente noto che tra l'altro ha avuto anche il piacere di intervistare per la RAI persona anche di una straordinaria cordialità e che però disse io non mi sento lo strumento nelle mani di nessuna provvidenza riferendosi proprio alla dottria di Rav Kuk che interpretava il sionismo laico in opposizione al mondo karedì come uno strumento nelle mani inconsapevole nelle mani della provvidenza che avrebbe riportato alla ricostituzione sostanzialmente del sinedro in Israele va bene non voglio entrare in questi discorsi che mi appassionino troppo dico solo che Rav Kuk è stato un grande filosofo a suo modo e che ha costruito tutta questa sua filosofia della storia dialogando con i grandi sistemi filosofici in particolare con Schelling europei va bene io vi dico vi confesso sono le 22.05 siamo 200 persone io vorrei chiudere per le 10.30 così mi sono preso tutte le gli strali di Mimmi Navarro che mi dirà no 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 dobbiamo contare però a un certo ora dobbiamo finire inevitabilmente anche perché Lucio Caracciolo ha avuto una giornata da stamattina gli altri due da Israele come tutti gli israeli sono un'ora avanti io stesso domani mattina un'altra cosa però chiederei a questo punto un giro di nuovo fra i nostri relatori Lucio Caracciolo vedevo che prendevi appunti se hai insomma intervieni come vuoi poi direi farei ancora della Pergola e Ascoli così brevemente un loro scambio intanto se volete iniziare a scrivere delle domande in chat e poi intervenire vis-à-vis naturalmente vi chiedo concisione non scrivete cose così non le si può leggere prego Lucio tantissimi spunti ti ringrazio Davide di questa occasione francamente valeva la pena di fare questo numero di Gimes solo per avere questa occasione vorrei intervenire in particolare sul discorso che ha fatto Rav Michele sulla questione particolare della incapacità dialettica di Israele che non è esattamente una questione secondaria perché una democrazia in cui non si riesce a discutere è una democrazia in crisi che mette in questione proprio la sua ragione d'essere e se questo è vero e se è anche vero come mi pare possa dirsi che almeno una parte di questa crisi dialettica deriva dalla formazione cioè da una formazione di tipo verticale per cui vi sono dei sistemi pedagogici che appunto funzionano verticalmente ma che non si toccano orizzontalmente e non è solo un toccarsi culturale spesso è anche un toccarsi fisico perché poi la verticalità si trasmette anche sul territorio su dove si abita o dove non si abita e quindi si può anche magari finire per arrivare a una certa età senza nemmeno davvero frequentare coloro che appartengono a un altro pilastro della formazione israeliana e questo mi pare un tema assolutamente decisivo interessante anche la sottolineatura del debate che è un classico esercizio che si fa nelle università americane dove prevale proprio la logica pugilistica cioè io non è che dibatto per dibattere dibatto per vincere per metterti KO quindi il buon debater è quello che sa presentare meglio degli argomenti vincenti sull'altro sì d'accordo però qui siamo in politica non siamo in un seminario quindi in politica si vince o si perde e se tu insegni a dibattere in un ambito di democrazia aperta insegni anche quali strumenti usare in un dibattito politico per prevalere sull'altro o per dirla in maniera chiara per prendere più voti dell'altro e qui vengo a una frase che prima citava Sergio a proposito di non so più quale esponente della destra-destra voi vede l'aviazione e la marina noi abbiamo i voti intanto vorrei sapere chi ha le forze di terra vabbè ma insomma già l'aviazione e la marina non è roba da poco cioè è come dire io che sono il governo io che rappresento il centro del potere non dispongo delle mie forze armate insomma non so se cogliamo l'importanza di queste frasi che non sono proprio di tutti i giorni però noi abbiamo i voti sì diciamo i voti vanno e vengono le forze armate stanno o almeno dovrebbero stare e qui viene un problema fondamentale come può lo Stato di Israele sentirsi relativamente sicuro perché è tutto relativo se c'è questa faglia tra il potere politico e le forze armate e il potere militare come può Israele difendersi se i piloti che dovrebbero difendere Israele da un eventuale attacco iraniano o di chiunque altro magari non si addestrano più e che cosa significa tutto questo nel contesto che citavo prima cioè di un'America vogliamo dire distratta meno interessata anche la frase di De Santis prima mi pareva siete adulti cavateveva voi grazie bello facile a dirsi domanda che rivolgo a chi vorrà rispondere se stanno così le cose quale può essere l'obiettivo per superare questa crisi la sospensione permanente del dibattito sulla riforma giudiziaria è un orizzonte possibile e soprattutto chi ti garantisce che sia permanente una volta che l'hai sospesa e che non ci sia a un certo punto sospesa attraverso un compromesso ovviamente il compromesso dice non è possibile mettersi d'accordo mettiamoci d'accordo come prima veniva citato da Sergio mi pare la prima Cnesset costituente non riusciamo a fare la costituzione smettiamo di parlarne e andiamo avanti con le leggi fondamentali come se tu da una legge fondamentale una sull'altra puoi costruire un impianto costituzionale in genere accade il contrario prima si fa l'impianto poi se ne derivano alcune leggi di fondo ma però la questione è si può sospendere ad infinitum e chi ha interesse a farlo e infine se invece è possibile un compromesso in un clima in cui non si dialoga che tipo di compromesso può darsi c'è qualcuno che è in grado di imporlo il povero Herzog è in grado di imporlo penso proprio di no e qui si nell'ultima questione che riguarda la persona di Netanyahu di cui si è parlato forse poco perché tutto quanto poi si accentra anche su una certa insofferenza di una parte di Israele nei confronti di un signore che più che un primo ministro sembrerebbe talvolta un re e non proprio un re costituzionale e non solo perché Israele non ha la costituzione quindi si può immaginare che tutta questa che tutto questo psicodramma collettivo si possa risolvere con un compromesso tra la giustizia israeliana e gli avvocati di Netanyahu cioè è tutto lì il problema e ammesso che sia giusto e lecito farlo che cosa risolve questo problema insomma non ho come capite bene delle risposte qualche domanda qualche curiosità però sì parola direi a Sergio della Pelcora riprendiamo un giro se va bene Michele anche per te così facciamo di nuovo questo giro parola a Sergio e poi a Michele Ascoli certo Lucio solleva e grazie a Michele per l'ottima presentazione di una problematica che effettivamente è molto più profonda del contingente ma quello che dice Lucio ha delle risposte naturalmente non abbiamo detto una parola quasi sulla leadership cioè io penso che nella storia sì ci sono i fattori economici insomma abbiamo letto Marx abbastanza e anche abbastanza convincente per certe cose ma però contano anche le persone Ben Gurion che era un'altra persona nel 1948 quando c'erano tre o quattro eserciti li ha fusi e ha fatto un esercito ha fatto un'operazione di forza che è stata maledetta e contestata e protestata però alla fine ha creato Zahal mentre prima c'era il Palmaj la Ganaj il Lech il Lezzel e tutto quanto vogliamo la stessa cosa avrebbe dovuto avvenire col sistema dell'educazione perché questo tutto il discorso sulla dialettica è estremamente importante però la dialettica è come io ho detto già io amo molto questa metafora insomma un po' squallida la maionese impazzita ossia quando prendiamo questi ingredienti meravigliosi e non riusciamo a coagularli con la giusta chimica scusatemi viene fuori una grande schifezza e quindi il problema dell'educazione ci sarebbe dovuto essere e purtroppo non c'è stato e chi lo sa semmai il Signore Dio ci manderà qualcuno che lo farà fare la riunificazione dei quattro sistemi educativi salvo ovviamente intendiamoci è una società estremamente eterogenea e quindi bisogna rispettare le diversità salvo lasciare grandi autonomie a livello di scuola limite anche a livello di rete scolastica ma imponendo però un modello che sia un 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 nucleo quel nucleo che viene appunto rifiutato da alcuni e fra l'altro gli altri anche se la cosa si nota meno anche loro rifiutano un certo nucleo perché in definitiva se questi rifiutano di studiare l'inglese la matematica l'ebraico e la storia di Israele gli altri rifiutano di studiare i fondamenti dell'ebraismo e quindi in definitiva fanno un'operazione simmetrica che è altrettanto falsa e sbagliata non si può ovviamente concepire Israele senza mantenere un forte nucleo di valori che possono essere al limite interpretati in maniere diverse letti in maniere diverse ma non possono essere evitati completamente come c'è chi vorrebbe fare e quindi il problema è se esiste un leader che al di là della capacità di vari altri tipi di capacità possa essere in grado di fare quest'operazione chiaramente in questo momento non si vede perché il sistema fatalmente si riproduce è un cerchio vizioso per cui gli interessi di coalizione impediscono le riforme e quando non ci sono le riforme il paese può subire gravi contraccolpi quindi dove si va la sospensione uno scenario possibile è quello dell'istinto politico e dell'interesse dei politici che forse io penso se avessimo Andreotti come rimpiango che non abbiamo Andreotti perché Andreotti avrebbe probabilmente trovato il modo di fare certe cose che Netanyahu non è in grado di fare non sa fare perché non le ha imparate Andreotti ha un altro tipo di formazione il buonsenso e anche l'interesse l'interesse politico ovviamente è quello di sopravvivere il potere usura chi non ce l'ha questa è una citazione classica e quindi se alla Knesset si comincia a capire che in un modo o nell'altro alla prossima Knesset e ripeto forse ho finito una frase nel primo giro il bilancio va approvato entro la fine di maggio ma se entro la fine di maggio i partiti non si mettono d'accordo come è già successo nel 2018 il Parlamento si scioglie e si va a nuove elezioni a nuove elezioni l'attuale governo prende una suonata fenomenale allora per evitare questo ci sono forze politiche in Parlamento nel Likud soprattutto che vedono già questa mossa tremenda e quindi per evitarla non possono che se non cercare di moderare le acque ed evitare di arrivare alle rotture e quindi cercare di arrivare appunto a un processo di procrastinazione o di moderazione ci sono diversi potenziali franchi tiratori e fra l'altro non era chiarissimo già prima dell'interruzione parlamentare se il governo avesse una maggioranza perché bastano 5 persone in questo momento che non sono poche 5 persone ma queste 5 persone ci sono e sappiamo chi sono e sono gli scontenti dell'Likud che non hanno avuto il posto che avrebbero voluto avere e poi indirettamente si rendono conto che la manovra è andata un po' troppo avanti e anche con una certa brutalità per cui una soluzione è quella del grande leader il grande filosofo il grande sociologo che meglio di tutti capisce lo stato di Israele le sue necessità le sue popolazioni ed è un grande illuminato dirigente l'altra è il piccolo cinismo dei politici i quali per mantenere il proprio caderechino finiscono poi per fare la cosa giusta sia pure a malincuore per cui non tutto è perduto voglio dire chiaramente oggi gli aviatori fanno le esercitazioni che sia chiaro cioè quello che forse Hamas Hezbollah gli iraniani e anche la Siria forse non hanno capito che la gente comunque ama questo paese c'è un fatto che in parte è cognitivo in parte però è anche emotivo non dimentichiamo che non si va solamente sulla base della logica e questo è qualcosa di profondamente radicato che non si può cancellare facilmente quindi intanto al momento giusto tutti tutti arrivano ma anche ora chiaramente l'ammutinamento delle truppe non esiste fra l'altro la domanda delle truppe di terra è buona perché effettivamente nella linea di faglia forse passa lì però posso dire che c'è un po' di tutto cioè non si può parlare chiaramente di elite e di bassa forza non è così l'esercito israeliano non è quello in cui gli ufficiali sono gli alfabeti e i soldati sono gli analfabeti come era in un altro periodo in un altro paese e quindi la forza io ritengo la forza intrinseca esiste esistono dei gravissimi errori di strategia di valutazione che sono stati fatti ed è comunque l'istinto di sopravvivenza sia pure al più basso livello dei politici che ci può portare a una soluzione però in conclusione non posso separarmi dallo schermo senza fare un'altra osservazione di tipo completamente diverso e questa va al direttore di Limes e a tutto il pubblico ovviamente e cioè col fatto che noi siamo così bravi attenti profondi sofisticati preoccupati analitici nel giudicare Israele e quindi nel mettere a nudo i nervi e quindi in un certo senso le debolezze e quindi la domanda ma Israele può esistere ma Israele è vero Israele ci sarà dimentichiamo che però tutto quello che c'è intorno di ostile di negativo continua a operare fra l'altro questa è una parentesi nella parentesi ho sul mio tavolo un interessante rapporto che è stato fatto sul modo di votare dei parlamentari al Parlamento europeo che mi è arrivato ora per computer in cui tutti i partiti europei rappresentati al Parlamento europeo non solo i partiti grossi diciamo di quelle formazioni un po' strane che ci sono a Bruxelles ma le rispettive componenti sono graduati dal punto di vista dell'appoggio che hanno dato a Israele oppure non hanno dato a Israele sia come voto sia come emendamenti che hanno proposto e beh non è male intanto si arriva alla sorprendente conclusione che l'Italia è il secondo migliore dopo la Polonia e il peggiore paese europeo l'Irlanda paese veramente vergognoso che non fa nemmeno il giorno della memoria secondo all'interno dei parlamentari europei scusatemi se dico questo perché insomma non pensate che lo credo i migliori sono la Lega con un punteggio del 96% di appoggio Fratelli d'Italia 84% di appoggio a Israele Azione Viva Italia Azione Italia Viva 66% Forza Italia 63% c'è perfino il Sud Tirol Sparta che è circa come Forza Italia si scende poi ai 5 Stelle 22% e il Partito Democratico 19% di appoggio a Israele attenzione insomma questo è qualcosa che dobbiamo non dimenticare poi ci sono anche tutti gli altri partiti europei ma il punto è questo il discorso su Israele non finisce solamente sulla riforma ma continua ad essere il discorso su Israele Israele sì Israele no è legittima questa cosa oppure no e allora qui bisogna stare molto attenti anche come gestire il futuro io penso che ci sia uno squilibrio e qui vorrei fare un appunto io sono un attento lettore ovviamente di quello che posso Limes ha dedicato a Israele credo 10 o 12 volumi nella sua esistenza però io vorrei vedere un argomento diverso cioè un volume dedicato alla Palestina in cui nelle mappe che Limes dà le mappe dove è il sito nucleare quello noto quello meno noto cioè tutte le risorse strategiche di Israele le stratificazioni la possibile divisione di Israele in cantoni ebbene e poi c'è anche l'intervento un po' sarcastico di Hanan Asharawi io vorrei vedere un volume sulla Palestina in cui ci fate vedere una mappa di dove sono le fabbrichette di missili dove si fa la dinamite dove c'è il commercio di armi con delle freccine delle stelline come è composto il Parlamento palestinese e poi con un intervento sarcastico al limite di Smutrich cioè questa cosa a me mi manca cioè di fare quell'analisi che noi facciamo su Israele perché Israele è trasparente e abbiamo poi tante persone che sono pro-israeliani ma onestamente critici e mi ci metto anch'io se vogliamo la parte opposta invece non ci dà nulla di tutto questo e questo però viene ignorato sistematicamente e bisognerebbe fare qualcosa fra l'altro è stato citato oggi Mansur Abbas io l'ho sentito dalla viva voce dopo De Santis ha parlato Abbas Abbas è un personaggio estremamente interessante ha detto una cosa che più che ragionevole naturalmente non ha un grande seguito dice noi l'altro partito saremmo il ponte per creare quel vero dialogo fra Israele e Palestina dicendo alle due parti quello che non va bene invitando gli israeliani ha detto ha fatto un discorso non diversissimo da quello di Michael cioè la dialettica degli ebrei è scadente e la dialettica degli arabi è scadente e la dialettica fra ibrei e arabi è inesistente e noi cerchiamo di fare questo lavoro ora quanti seggi possa racimolare Mansur Abbas io spero che riesca a superare la soglia nei sondaggi siamo lì insomma dovrebbe farci cioè non è una forza di massa però un discorso che in un certo senso è molto gratificante e però appunto richiama a una problematica esistente stiamo attenti nella nostra critica di non andare un passo troppo là e comunque non dimentichiamoci di fare lo stesso simmetrico discorso anche per l'altra parte perché alla fine il discorso fondamentale è veramente quello della sicurezza di Israele non dimentichiamo al di là di tutto Israele deve deve esistere deve difendersi e abbiamo avuto in questi giorni questa questa specie di saggio e non era più che un saggio di fine anno i tre missili mandati da Gaza mandati anche dalla Siria e poi mandati dal Libano insomma la cosa è durata un giorno in definitiva però è stata certamente un monito perché se tutti i fronti si aprono contemporaneamente certamente Israele vince però paga un grosso prezzo ecco quindi questo è un monito a cercare di non dimenticare il filone principale e dedicargli se possibile un bel numero di Limes numero doppio magari fra qualche mese grazie scusa Michael magari se vuoi Lucio vuoi rispondere flash su questo o e poi Michael chi conclude la nostra la nostra diciamo il nostro giro da molto volentieri ringrazio Sergio del consiglio anzi se poi lui mi può fornire anche qualcuno dei dati che vorrebbe rappresentassimo sulle carte di cui io purtroppo non dispongo in particolare su dove ci sono le fabbrichette di missili palestinesi volentieri però non francamente non metterei Israele e Palestina sullo stesso piano per un semplice motivo Israele esiste e la Palestina no ecco mi sembra perché vedo che Sergio Sergio hai sentito? ho sentito in parte allora diceva Caraccio lo ha concluso dei nomi e dei materiali questo è un discorso poi la seconda parte credo che sia più più incisiva difficoltà di fare un numero sulla Palestina come se ne fatti per Israele perché Israele esiste la Palestina no no questo non non lo accetto la Palestina no assolutamente più che esistente è una cosa molto controversa estremamente frastagliata e abbastanza illogica però non si può dire che non c'è bisogna affrontarla come una realtà esistente andare con gli stessi strumenti e lo stesso approfondimento e la stessa mancanza di pietà giustamente analitica quindi è una cosa che secondo me finora io non ho ancora visto va bene la pietà la pietà è fondamentale per l'analisi senza pietà si capisce poco la differenza ovviamente è che non è che non esiste un territorio palestinese di cui peraltro non conosciamo i confini il problema è che non esiste uno Stato palestinese quindi non esiste un soggetto geopolitico la geopolitica esiste lo Stato è un fatto al limite io sono un analista assolutamente marginale non si può dire ci sono quelli che dicono la Palestina non esiste lo dice Golda Meir i palestinesi non esistono e lo dicono gli smutrici Rotman i Levin chiaramente c'è questa linea però non è una linea che funziona perché se una cosa non esiste come mai riesce a fare tanti danni e tanti terrorismo oggi ci sono stati quattro atti di terrorismo minori ieri altri due insomma ogni giorno c'è qualche cosa nemmeno tutto trapela l'altro giorno un tale è passato a cento all'ora sulle strisce pedonale ha investito otto persone ed è stato ucciso sul posto da un tizio un passante queste cose non si può dire che non esistono sono cose che vanno inserite in un quadro ripeto di analisi coerente e questo è lo sforzo a cui inviterei molte persone a partecipare va bene credo che qui ci sia proprio Lucio una va bene una differenza di approccio capisco che dal punto di vista della grammatica geopolitica uno si occupa delle realtà geopolitiche consolidate e invece questo mondo fra stagini no non voglio semplicemente esistono certamente i palestinesi non esiste uno stato che si chiami palestina e questa è una bella differenza e mi pare anche molto difficile che possa esistere per tutta una serie di questioni ma apriremo un altro dibattito ci faremo un altro numero promesso Sergio ok va bene la chiudiamo qua volevo dire esattamente quello che hai detto prego Michael a questo punto diamo a te la conclusione dovremo sacrificare un pochino il dibattito fra tutti leggerò un paio di messaggi ma poi chiudiamo perché siamo già oltre la scadenza prego Michael io come ho fatto prima cerco di dare alcune di fare alcune osservazioni non ho risposte né pretendo di avere risposte definitive ai grandi interrogativi credo molto più nei piccoli passi visto il dialogo degli ultimi minuti appunto tanta gente ha preteso nel corso dei decenni di avere la soluzione definitiva per il conflitto israelo-palestinese adesso stiamo ancora a parlare se un ente palestinese esista oppure no quindi facciamo un passo alla volta forse alla manzura bassa è assai più interessante e costruttivo che non a questioni di principio che trovano il tempo che trovano partiamo da una riflessione fondamentale tanto a sinistra che a destra anzi non a sinistra tanto gli oppositori della riforma di destra e di sinistra e di centro che i sostenitori della riforma questi quasi sicuramente di destra usano la stessa bandiera quindi tutte queste speculazioni anche sul fatto che ci potrebbe essere una crisi dal punto di vista la capacità di difesa dello stato ebraico perché c'è stata una minaccia da parte degli aviatori di non presentarsi eccetera forse è uno dei sogni dei nostri nemici ma se lo possono pure scordare nel modo più assoluto invece è assai più preoccupante e questo ha fatto molto bene della pergola a sottolinearlo prima questo continuo supporto esterno che viene da una larga fascia dell'Europa a questo stato palestinese che non esiste e che però in chiave spesso anti-israeliana continua a ricevere un supporto enorme e questo fa male fa male moralmente fa male ai rapporti fa male dal punto di vista di gente che poi in seguito ad atti terroristici ci rimette la vita e come tristemente sappiamo sarebbe ora di smetterla non riesco a condividere invece con della pergola il rimpianto per l'assenza di Andreotti come italiano sinceramente non ci riesco proprio credo che possano esistere esempi molto migliori non tanto per capacità ma per quello che poi danno al proprio paese sicuramente neutralizzare il problema personale di Netanyahu sarebbe una parte importante per risolvere la questione non perché risolve la questione in sé o nessuna questione in sé ma perché il dibattito è così tanto anzi il non dibattito è così tanto intorno alla figura di Netanyahu le campagne elettorali l'ho detto anche prima degli ultimi vent'anni sono state tutte quante pro o contro Netanyahu a livello personale che trovare un modo per farlo se chiedete a me onorevolmente uscire di scena sarebbe non la soluzione dei problemi ma un fattore che consentirebbe di iniziare a risolvere i problemi questa è una prima cosa che dovrebbe essere interesse sicuramente interesse anche di parecchia gente dell'ICUD di fare se però guardiamo al futuro un po' più in là ebbene il futuro è qui in aspettato sicuramente possiamo avere tutti quanti i numeri e le statistiche del caso a supporto ma dal punto di vista demografico e al sionismo religioso che dobbiamo guardare ai hareddin che dobbiamo guardare e quindi è rispetto alla formazione di quella gente lì che poi siamo anche noi in una certa parte che dobbiamo guardare ed è lì per quello che mi sono soffermato sul fatto che c'è una lacuna nel modo di sapersi rapportare all'altro che è una lacuna fondamentale e mi ricordo di un episodio personale con un carissimo amico risale più o meno una quindicina d'anni fa si parlava di bambini in età dell'asilo e qual è la cosa più importante da insegnare a tuo figlio è che se prende una schiaffa lo deve saperli dare sempre comunque sì sempre comunque forse ci sono delle circostanze in cui invece varrebbe la pena no perché se tu cominci a insegnare sottigliezze un bambino di cinque anni non capisce sottigliezze e quindi crescono in questa retorica qui o vinci o perdi è meglio che tu vinca e quindi è la retorica della forza questa cosa qui se non si cambia la radice se non si cambia da di dentro porterà a dei disastri questo si porterà a dei disastri non domani non dopo domani ma nel giro di anni probabilmente sì è vero che il debate e qui rispondo direttamente alla nota di Caracciolo è un segnato anche per prevalere come ha citato giustamente questo avviene all'università in America se questo lo insegni ai ragazzi adolescenti ai 13 anni ai 14 anni è tutta un'altra storia a 14 anni sarebbe meglio insegnare dinamiche sociali differenti e questo penso che sia un discorso molto importante infine un'ultima un'ultima nota sulla sulla questione della della assenza della della Costituzione ho letto nel numero e sentito negli interventi che si associa alla possibilità di avere una Costituzione quasi una una virtù salvifica ma sicuramente se noi parliamo della Costituzione in Italia o in altri ambiti è una cosa fondamentale però per il popolo ebraico è un po' diverso il popolo ebraico è un popolo abituato a vivere con le contraddizioni abituato a farci a farne un punto di forza addirittura a farci autoironia la famosa idea per cui esistono due ebrei e tre opinioni eccetera eccetera e le baselette di cui sempre anche ci compiaciamo e io confino molto di più nella capacità di equilibrio dinamico che in quello statico mentre continuare a discutere su chi si è ebrea può essere molto più prolifico che non cercare di regolarlo per sempre e di sancirlo da una qualche parte che invece potrebbe risultare pericoloso lo stesso vale per stato ebraico stato democratico e così via Caraccio lo citava nel suo intervento iniziale il fatto dell'immagine della bicicletta ecco sarà che in fondo andare in bicicletta non mi dispiace perché mai dovremmo smettere di pedalare io credo molto di più a un equilibrio dinamico continuiamo a pedalare che se ci fermiamo è un disastro l'obiettivo nostro non è quello di fermarci è di sapere come continuare a pedalare come mantenere questa costante armonia fra tensioni opposte e di come saperle armonizzare mi fermo qui anche perché le 10 e 30 italiane le abbiamo anche abbondantemente allora scusate anzitutto naturalmente la chat adesso si è si è si è si è nata naturalmente complimenti a tutti alcune osservazioni critiche per l'uno per l'altro vorrei solo sottolineare visto la notorietà anche degli altri degli altri diciamo due relatori non 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 si riferiranno che è stato veramente molto apprezzato il l'intervento il tono riflessivo di di Rav Mikhail Ascoli Mikhail ti confesso ti ho appena scritto via Whatsapp perché ti mando la mail di qualcuno che qui in chat chiede ha dato la sua mail per chiedere dove può seguire per cui avrai nel tuo Whatsapp un indirizzo mail che deriva dalla chat di Zoom va bene, allora scusate una cosa così la faccio perché la chiedeva Massimiliano Boni abbiamo citato prima, forse lui non era collegato un'intervista rilasciata recentemente da Sergio della Pergola, riflessi meno ra che mi pare sia una testata ebranca che sta avendo molto successo e mi sembrava intersecarsi un po' Sergio, lui la rivolge a Caraccelo ma forse Sergio intersecava molto i dati che tu proponevi prima sul voto del Parlamento europeo sostanzialmente è venuta fuori che almeno in Italia le formazioni di centro-destra sono molto molto più a sostegno di Israele anzi, più si va a destra più sembrerebbe aumentare e crescere questo sostegno perché ti si chiede Massimiliano Boni no, non tanto perché, che cosa questo significa visto che lui ricorda ciò che voi avete ricordato la presenza di Ron De Santis in Israele e anche la presenza di la russa che ricordava prima Milo Casbani che cosa significa oggi questo perché in termini generali possiamo anche sapere ma perché, da dove nasce la rivolge anche a Lucio Caraccio non so se Lucio deve scriversi in questo senso mi sembrava più intersecarsi i dati di Sergio in breve, se chiedi a me chiaramente sono la persona sbagliata cioè sono assolutamente scettico e non credo a una parola della sincerità cioè io penso che questo venga fatto per degli ulteriori motivi che in definitiva sono ben più importanti nel pensiero e nella strategia politica di queste forze Israele è uno strumento io ebbi l'onore di cenare con uno dei capi di questi partiti a casa dell'ambasciatore di Israele e questo importante politico e ministro mi disse io voglio che mio figlio studi in università israeliana perché voi siete molto speciali ora questo è un discorso che io personalmente proprio non lo posso assolutamente assimilare grazie e sarò ben contento perfino di dare dei consigli al ragazzo non è questo i motivi sono completamente differenti e anche Ron De Santis che ora non dirò delle cose che ha detto oggi Ron De Santis cioè siamo un fatto questa è la mia lettura scusatemi se sbaglio estremamente marginale esistono ben altri siloni di pensiero, di strategia nel lungo termine che io assolutamente credo noi non possiamo assolutamente condividere e quindi ci troviamo in una situazione paradossale in cui queste persone ci aiutano molto e ci appoggiano molto e c'è naturalmente chi è ben contento e chi si identifica compreso anche ovviamente nella compagine ebraica abbiamo un grosso filone che segue, partecipa è contento e crede io personalmente non ci credo assolutamente sono stato formato in Italia secondo diverse linee e le mantengo anche qui perfetto io voglio solo dire scusate se faccio questa piccola promozione all'ERK che siccome vedo che si moltiplicano le richieste di Shurim e di Rav Michael Ascoli che se scrivete a noi adesso metto ed è tutto gratuito potete ascoltare per lo meno tutta l'interpretazione biblica che ogni ogni Shabbat ci mandava Rav Michael Ascoli in alternanza con Rav Punturello vi metto la nostra mail qua chi vuole senza scherzare ci scrive e diamo le indicazioni di come seguire le cose Lucio volevi intervenire su questo? no no mi associo a quello che ha detto Sergio con una nota non prendiamo troppo sul serio il Parlamento Europeo ecco ecco anche quello anche quello Sergio giusto per per essere in equilibrio metodologico e coerenza metodologica di Limes anche l'Europa per Lucio Caraccio e in genere per Limes ma credo forse per tutti non esiste nel senso che non esiste come soggetto geopolitico per cui la stessa roba si direbbe penso no Lucio di non tradire il tuo pensiero nel dire che attribueresti la stessa la stessa definizione di non esiste anche all'Europa non so se se in questo in questo si dà qua va bene ok adesso metto la mail e scrivete perché se no Michael ti devo mandare 200 indirizzi via cosa vi metterò in contatto un tuo pubblico e la cosa va bene io a questo punto scusate chiuderei perché siamo a meno un quarto veramente chiuderei tanto penso che dobbiamo riflettere anche di maestri io ho avuto due maestri uno filosofico e uno in ambito di Torah la costante fra i due era non si può far domande prima si riflette e dopo si fa domande applichiamo oggi questo schema chiudo con una battuta scusatemi un po' disorientati tutti da da questo dal ginepraio insomma in cui siamo finiti nel parlare di Israele era inevitabile e abbiamo citato i filosofi c'è una battuta famosissima una categoria filosofica direi la nottola di Minerva che diceva Hegel viene sul far della sera cioè compare a giochi fatti forse dobbiamo appellarci a questo nel senso un po' come diceva Michael favoriamo una pratica sociale di convivenza dopo verranno le definizioni teoriche che forse oggi dobbiamo sperare in questo e in figure forse anche come Mansur Abbas che ci avete ricordato sembra insistere su questa pratica del dialogo non retorico ma maieutico come ci ha invitato a pensare Michael Ascoli va bene allora grazie grazie davvero a tutte e a tutti metto qui infine il nostro email sempre per per le richieste anche di Sciurin Bari con Michael Ascoli o qualunque cosa grazie grazie a tutti io sto cercando naturalmente ok grazie grazie a tutti ecco ho scritto grazie grazie a voi alla prossima grazie anche a Bibi grazie a tutti ciao grazie a tutti buonasera ciao a tutti ciao ciao ciao